Jessica Verzulli, Forza Italia punta per le prossime elezioni sulla linea verde, sugli under 35, in ottica rinnovamento della politica così come voluto anche dai vertici nazionali. Esatto, un rinnovamento che non è basato sul ricambio generazionale e così tanto per farlo. Io dico sempre, nonostante sia molto giovane, che il merito non è dei giovani, il merito è delle persone, quindi giovane non vuol dire necessariamente meritevole. Per questo in Forza Italia questa volta è stata attuata una riflessione sulla rappresentatività effettiva che questi ragazzi hanno nel mondo dell'associazionismo, del volontariato, dello sport e del lavoro. E quindi è stata fatta una riflessione che ha portato alla scelta di questi otto ragazzi che corrono, che sono ragazzi che non fanno da riempi lista, che non sono stati inseriti in lista per abbassare la media d'età e questo è molto importante perché non è una scelta formale ma sostanziale. Nel segno della continuità, dei buoni risultati che noi pensiamo siano stati già attuati in questi cinque anni di amministrazione, che sicuramente potranno essere migliorati con nuove forze, forze giovani, che sapranno dare il loro apporto al meglio alla prossima giunta. Molti arrivano dalla società civile, sono ragazzi che hanno esperienze di vita professionali, lavorative, di studio molto diverse. C'è chi si è dato lavoro da giovanissimo, chi invece ha un percorso di studi nonostante la giovanissima età davvero qualificante e chi invece ha fatto carriera nel mondo dello sport anche a livello nazionale. Questo è un motivo di orgoglio per la lista Forza Italia e per tutti noi che speriamo che questi giovani sappiano rappresentare al meglio in Consiglio Comunale questa loro capacità.